I finanzieri del gruppo Dieboli, nel corso di un'attività di controllo del territorio, hanno sequestrato in due operazioni 45.000 litri di gasolio per autotrazione commercializzato in frode alle accise nei comuni di Buonabitacolo e San Gennaro Vesuviano. Il tutto è iniziato da un controllo su strada delle Fiamme Gialle ad a un'autocisterna che trasportava 13.000 litri di gasolio per autotrazione scortato da documenti irregolari. Le indagini hanno consentito di accertare che il prodotto fosse di provenienza estera e che la stessa autocisterna aveva scaricato poche ore prima altri 32.000 litri di carburante presso un distributore ubicato in via San Gennaro Vesuviano. Dopo questo ulteriore controllo, le Fiamme Gialle del gruppo Dieboli hanno sequestrato in totale 45.000 litri di carburante e del mezzo di trasporto. Inoltre hanno denunciato due persone per contrabbando alle competenti procure della Repubblica presso i Tribunali di Lago Negro e Nola. Grazie a tutti.